gindobre eccoci per carolina ciao stefania edita carolina gente avrà di sindaca carolina come sefania gindobre allora iniziamo conto da 5 a 15 4 3 2 1 come la vedo in piedi la vedo in una rappresentazione come lei adesso vediamo una cosa c'è stai onze perché l'andata che tratta la semplice ma la vedo con di fianco una donna anziana evita bockney star sono copiata potrebbe essere una sua bisnonna il modello che c'è caccia tra la tambaccia o comunque una donna che è originaria potrebbe essere della polonia la vedo con un con una una stoffa in testa e un vestito un po dell'epoca di qualche anno fa di qualche decennio fa un po dall'autorizzazione carolina che carolina dalle poste volani anastasia ok non ho capito si è presentata con la bisnonna cioè poi la giusta un papà c'è un papà c'è si è presentata a lei ha più o meno l'età di adesso questa donna è più bassa ed è una donna che ha un vestito tradizionale tab tabaccia isogni inizia statura carina raccontata che conta via che mi piace i tabaccia amata che tradizioni e che si strui e ho l'impressione che sia una sua parente come una bisnonna dalla parte della mamma vita che potrebbe essere una massa fanno sottere scusa sinese strano ma me ne castano tra cina mosa papà ciamola tra bacia e le vedo che camminano insieme e parlano stanno parlando il video sai da un sape rosa mi rosa che è un straccio di cosa parlano lei sta ascoltando ma è questa donna che le sta raccontando le sta spiegando della sua vita come viveva e le sue abitudini carolina scuocata zona un pio ne ho provato a fare in gioccio tazzo e adesso mentre mentre lei parlava vedo che sono su una strada come come fosse quelle strade un po asfaltate tipo che costeggiano una spiaggia e poi vedo i riflessi di questo mare sono possono essere un po più verso il tramonto comunque che c'è un sole che illumina un po l'acqua e non sappia spaziar che è un plus attaccato la caccia con asfaltava mai vita colore da foto spaventa nata mosa camicia biaio ok vediamo sia delle interferenze teriche da parte a carlino ma che si interfa interferenziata regina allora sto vedendo non ha un uccello che sembra un bufo chiesa che città c'è pomina sova seconda della parte destra poi vedo dunque vedo delle interferenze come dei disincarnati e poi vedo che c'è un rettiliano mi sa certo ne vede due dl e che si è stata scelta basta torscio scopo diretti li hanno falconi forme 2 dl e disincarnati c'è di raptor fa che si fa con i tre state feste stai sopra smart quanti disincarnati e dove i resti il tuo cofi inglese che c'è una son ne vedo due due disincarnati e vedo un uomo una donna da vado a nostra snarko pietà entità mentali cosa che c'è stata mentana sì ne vedo due due dettagli mentali che livello facciamo allora uno livello 3 e uno livello 4 ma facciamo c'è 4 cosa facciamo parte ecco e ne vedo una che agisce su di lei ha un'influenza in particolare con il tempo col cambiamento del tempo il nostro che star bardoff poi vanno anni a mistico gioco a casa smianeta sova come se ci fosse più influenza parla di questa entità mentale con la pioggia supporta gli stati mentali tra c'è testo che rivelo a questo corretto apposiamo questo livello 3 la sposa molto cieco che io io gliela colloco dal lato destro comunque gliela vedo lì 4 che c'è una prova estronità di stato attacassate coposiamo allora questa del livello 3 che dicevamo che ha anche anche proprio come effetto come una pioggia c'è qualcosa che comunque la la bagna ma anche la permea mi è tanto è stata facciamo c'è come attacchi a cercare un anno e questo punto è stato un foto allora questo questa interferenza diciamo che è come se dunque cerco di vederla bene di spiegarmi bene è come se attraverso questa questa entità mentale lei fosse invasa e fosse avvicinata spesso ecco 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 come se fosse un catalizzatore un qualcosa che attira le interferenze di passaggio e che lei le sente le sente molto di più ecco in questa entità che è stata spazio ma c'è come ogni volta che fu a catalizzatore ma non ho capito poi la seconda parte catalizzatore come se questa entità mentale facessi che lei in certi momenti della giornata sente molto di più quello che passa a livello energetico tagliate carolina e anche le energie delle persone quindi quando qualcuno le sta vicino a questa entità mentale fa sì che lei senta anche spesso fastidio nel giorno per le frequenze e le energie degli altri e rovino attraverso la seconda la seconda la seconda che livello 4 scusami devo darti più tempo aspetta drug istote mentale droga è stata mentale una luca facciamo parte bravo visto istote lo so e mental ne l'ho capito o chi lo so è l'unico numero che so quindi allora questa a che vedere con le relazioni tasca siamo parte cosco lei ma così relaziamo relazioni sentimentali oggi abbiamo scherzo ciava sento mentale e quella entità che fa sì che è come se ci fosse con uno schermo davanti a lei che non carolina e cron dove lei proietta quello che vuole vedere c'è una proiettoria tazzo parte sugli altri proiettori toman in mi spiego le capitato spesso anche tra le cose che diceva prima che con questa etica mentale lei proietta il desiderio di avere magari una relazione una persona valida su un'altra persona tutta coggiata tazza non muovirà ciascini sono secco di islico che si spotteccato proiettoria tato sotto sfondo vola giusta o sopano non ho visto un po e non le fa vedere chiaramente chi ha davanti ai tanti stato ogni post vale il sabato c'è chi me la praga di stava sopato come apprezzata anche quando la persona che ha davanti le dà dei segnali chiari di come è fatto gesto una fatta detta da nostra pata ii che si verrà il signale tono itac va la storia aggiungo questo anche in caso di una persona violenta questa interfer questa entità mentale spesso non le permette di riconoscere i segnali concreti lo stesso parco sta bene la grazia night is totta mentale ogni post vala ieri la sposa spavitua volte come stavano ex cloud è collegato al compagno ciò ma tornata che partner a quello che è successo col compagno lei non voleva pubblicamente avere figli e ne ha avuti quattro non ci ha capato una moveva ogni ciava ceci a questa cosa ma tra sporca si è collegata col compagno adesso ma è collegata anche esperienze precedenti tac ma possiamo sapere non parteneremo i tangenti all'europe trattato abbiamo scopo tra mia frasi perché da quello che vedo io non è stata l'unica relazione difficile vostra cazza fece a terra segnata mi è spaventata un altro una relazione come impianti da 3 16 ma d'implanto le istotte mental ne sono solo due stessi stavano è stata allora entità mentale sono due impianti mentali e non ne ho niente ma impianto fomenta mentre sul corpo impianti nel corpo vedo che ce n'è uno alla base della testa nota ma se si faccia vuoto io stia danno impianto potere un uova cioè le ultime vertebre quelle che tengono attaccato il collo diciamo siamo stati e nostra mandorle cranky treccio mai un uova da carco e poi ne vedo uno un altro lungo la colonna vertebrale dietro capo le esiste in franco soppie che ci stanno patica mi trecoli ne vedo uno nel braccio qua io stia danno farà meno tanto tempo casa vasta fagna e vedo un problema fastidio che collegato a un impianto a livello della tra la vescica e l'utero e che c'è stame che il problem rovinas pomienze maccizzano a per caso ne che il problema trova voi che si implanta basta ok causa di te rega del fatto che una domanda un po inutile comunque del fatto che è nato in questa famiglia ha fatto l'attacco a carlino rovinas a vostri astai rovinia inutile perché siamo nati nelle famiglie perché ci siamo scelto per fare un certo esperienza trascata che petani gina panni la stame famiglia rame d'accordo tenuta si facciano anche tutto così ma l'idea di una famiglia ideale eppure utopia qua non si parla di utopia qua si fanno esperienza cosi ma totale il codice ideale raggine motorevo utopia metodo teppi oggi non so se si attrazi sì sì sono sono d'accordo con te lucio quello che quello che posso dire per rispondere a questa domanda è che sicuramente è stata una scelta sua di suo papà ma per no ma c'è stefania a casa c'è senza progettare lucio e votano per noi in febora sarò ma ieri e chi ho vedo che c'è stata un'altra incarnazione insieme con suo papà da vuoi stai non c'è in carnazia solita e c'è stata come scusami dimmi no vedo che c'è stato uno scambio di ruoli nel senso che una un ruolo invertito rispetto ad adesso dove lei era padre e lui era figlio maschio tante tante ma c'è un ruolo una bella oizia a un bel seno il padre vivo e tatare a questo momento la mamma anche mamma 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 nascita sembra di essere quel umano che impara da i personaggi di del film avatar no e ripete le parole perché è talmente strana sta lingua che veramente scusa edita con tutto rispetto però papà di tiscia c'è fu quindi questo è albero si si fa fa e oggi si fa albero si dice come fa edita brava edita brava denis in cazzo e rossisce senti chiamiamo qualche persona nel cinema si appara sopra la china tra prossima carolina i genitori raggito quattro figli forca i 10 l'ex un bel eco e le due ipotetiche fiamme e tagliato a pectrona potenza facciamo compagno c'eropini a me possiamo anche invitare la sorella che ha fatto la sessione sorella stavola allora la prima cosa che ho visto quando ha detto chiamiamo nel cinema c'era il papà col braccio alzato per sono tutta cosa faccia vante poi faceva giochini a cosa facciamo a tector che si stava come offrendo volontario prima che tu lo nominassi lui diceva di io io che voleva entrare da capo sguardo c'è no con i cosani mi sta cosmi ne vuoi suggerire ai caiart a tampo visto anche il ha detto scusa il padre il padre sì 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 devo dire questo rispetto a a come nella vita ecco in eterico si presenta in un altro modo si presenta molto gentile molto gentile prestiamo un po cofettiano è una cosa metà ragionata attaccio casa che parto vagonata che mio è molto disposto ad ascoltare ed imparare io scotto fa parto canto su caccia la madre a mamma la mamma è arrivata da un'altra parte è entrata da un'altra parte come se fossero due persone che si conoscono ma che non sono sposate ecco a mamma quanto figli for caseci ci sono sono seduti sono usciti campo sono seduti come per guardare lo schermo proprio così uscire tritano un paccio sono canna cranto ma dimmi dimmi l'ex capo è l'ex c'è ma è come fosse in ultima fila lontano dai figli gli essi lasciato portati in giangio sopra ogni dalla codice ci e sorella la vedo anche la fascia stra e di fiamme si allora la sorella e vicino ai figli siostra è stato pubblico perché i ceci sono tastati fiorata tra pomene che potete una sto vedendo anche un uomo che è arrivato penso con la sorella di attesa che si mostre snack tour e penso che l'abbia portato la sorella non so se il marito un finanziato ma avrà sannata che la sosta cata non so se provo a giro anni che sta fanno già test partner che si mostrano e poi allora io le due fiamme che chiamato le due ipotetiche fiamme hanno fatto comparsa ma poi sono usciti non non sono collegati a lei che porta attaccita fa che potete c'è la pomiglia nascida c'è troppo sia vi ricetta fai nostra signora saffi la faccetta che quindi troviamo con la sua strata sposta montagna siamo sani sono fiamme a pomiglia no ma è arrivato un altro ragazzo però mi sa un po meni a mia scuola e poi a fiuscire in copac e siamo che la fiamma non riesco meno dove abito e allora io lo vedo un po ricciolino con i capelli scuri ma come fosse coloro c'è un nego taccato coppola coppola e lui quando ha detto fiamma si è presentato lui perché come se lui si fossero già incontrati loro spominiamo spominiamo e già può meglio se poi aveva vota che per ogni us che dice spot cari in questa vita e sembra avere la carnagione leggermente scura carnazzi e arabo avrei detto di sì vedendolo però forse ha delle origini forse ha delle origini ma non è lui non è nato la pace al fanico morsa per taccato la mia scova giornata che poco zenia potrebbe anche essere ispanico c'è però comunque una carnagione più scura ma comunque essere diciamo europeo ma ora tropecciate chi si fa una volta con la cota c'è nessun score con la paura poi giochiamo la mia nobile lo chiamiamo nel cinema vediamo la causa esoterica del fatto che carolina ha trovato ha individuato in due persone forti sospetti di fiamma casa prossima è una città la coppa canta sostanete in che nei trasprassi ma tratta che ci fai pa 9 a 3 non viveva carolina l'attacco potenza favore cosa tassa un po mine la fiamma a poco della storia romantica ha molto di una storia di un'unione sacra di un grosso ed impegnativo percorso di consapevolezza niente di romantico momento niente romante c'è manca totale cosa faccia imparci e io sono relati francese fiantaco quasi non neanche senso pensare di fare dei figli con una fiamma perché non è quello l'obiettivo della relazione unione e questo te ne ha fatto niente non ha già messo ora bene oggi e scuomenia boni e totale i relazzi allora io quando ho visto quella entità mentale quella che è come e come un proiettore io ho collegato questo discorso qua di queste due ipotetiche fiamme facciamo stefania stasnita istatamente a un attore a grant amaro spacerà più agli proiettori e tosono te dello spazio maia per non so perché in quel momento quando lei ha incontrato queste due persone ha proiettato il desiderio di avere una relazione affettiva vostre momenti che da no spot cavata un per pano tag del proiettorato volta con volata un fai in sto praganini mi devo fare l'arte facendo caro manca il desiderio e la speranza praganini ora una geata canato ma un po come se la speranza fosse fosse legata al fatto di qualcuno che la potesse tirare fuori e salvare dalla sua relazione titanagea ma siamo extrema per una figlia parte io sopra il cocco scusso i pomoci 6 state access nei relativi tre io non avevo quindi per questo motivo lei ha pensato è legato molto all'entità mentale ma anche a una sua parte che proprio fa parte ha fatto parte insomma della sua natura finora il fatto di desiderare che qualcun altro la salvasse c'è l'estrano è stato attraverso mentale ma i canzoni al canale altro che stanno lo finisce di posta natura ita che non c'è ma praganini e nagea giusto siamo ora tu e stiamo scoprire un po è proprio un po sì come la storia proprio un po di cenerentola no in effetti che veniva nominata prima il trusca che rispecchia anche un po nel suo modo di reagire tosse vercella per il senso che si sposta per la cofania cioè il fatto di subire fino a che qualcuno non la aiuta e non la tira fuori da ciò da momento a scoprire uno stampo facciamo che nevo la tua infatti chi è che la può tirare fuori dal problema infatti c'è nectomo sapete stiamo facciamo questa se stessa non la siamo quindi la fiamma lei la desidera perché la considera un ancora tratta un tempo meno nata corta praga neppone posta scatta un po ma in accorta con cosfe tra sì finora si tagliate porre trac però incarnata si all'estero c'erano c'erano tempo mentale lì nel paese irlanda nel paese di carolina io stiamo stessa non credo la mia carolina after momento no dove sta allora io lo sento in europa cioè c'è l'europa non è in irlanda non è in gran bretagna insomma lo sento più come fosse proprio un po più verso la 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 spagna o proprio un paese ispanico nesta spagna che spagna un corto colizzo si potrebbe essere in spagna se non mostri facendo spagna anche in portogallo tra tra lì al bordo che spagnolo portogali artista rayonata quindi non è previsto nessun incontro in questa vita ci arriviamo se le feste a spot cani ma io penso che loro siano già incontrati loro si sono già visti gli ammessa johnny urs e che dei spot cari fratello suo fratello che fa in spagna ok e vicino il fratello questo fiamma c'è tempo a minimo sapere sono giocato briscoe ibrata tanti spani non vicino al fratello come amico del fratello ma può averlo già visto quando è andata dal fratello né stop si acce al brata né stacchi insensi a brisco scea c'era ma alla mostra giocofiggiavano in cerca di tampa io ho avuto tacco prato soccista un costo cava anzi mi dice una cosa che più che più che si sono già incontrati lui l'ha già vista bar genio stagioni c'è spot carita o non ho bisogno un sabato cenerentola in famiglia causa superi che socia una cosa sia copito schema virginia ma io qua ci vedo la causa la vedo proprio molto nel quadro familiare c'è allora la causa esoterica intanto e di rincontrare il padre tutta evita presa 3 c'è un tema brasco progine testa neri rodina e tutta ecco ciò spot cani con una volta e come se la famiglia fosse avesse bisogno di quella famiglia avesse bisogno di una figura femminile portante mancando la mamma c'è necessariamente l'hanno rimesso al centro da capo foto sopra cava mamma e terrogini e dopo ciò nato è questa figura mesca copiazza e al centro non in positivo come avere cura ma al centro come tutto tutto sulle sue spalle e stacca in pari una besta cotta figura copiazza centro ma l'hanno esposto che possa terne concentrano figurato il coso che tos una barca cocco quando spacciata ossa scorsi che problema che oltretutto vedo che uno dei motivi per cui sua mamma data era spesso via per lavoro era proprio il fatto di non avere tutto il carico su di sé da parte del padre e non spavano faccia con mamma facendo pranzo la granitata potoso per nemmeno fa il barca cazzo catacomato un conto con la strana da colza ok causa giustica del fatto che ha fatto ha messo al mondo questi quattro figli lei non voleva diventare madre a poca pazienza con i figli e bestemmia con i figli se c'è una stata retina factor poi arrivo poi arrivo se la città ma io sono il ciavo ai mani e mater privati città ogni copi stava la cacchina rovnias ma allora è l'incontro con vedo che l'incontro con quel compagno è stato anche questo un incontro di salvi di salvataggio vedo giusto spot cani e stem partner amparo questa porta che rosa di spot cani ha tornato mai ammora tovac come se anche su di lui l'aveste puntato sull'essere salvata dalla famiglia da che abbiamo vota con postaccia onctorato mi ora tovac stai rogine e vedo che lo stesso discorso è avvenuto con i quattro figli come se il avesse iniziato ad avere il primo figlio pensando che questo avrebbe migliorato il rapporto col mari col col compagno ipadabna ma anis ma sapato che c'è fizzata che come tempi a sto che faccio poi a fiosce a capo nome augurato faccio bravi c'è un relazio stem partner e col secondo figlio invece di essere salvata dal rapporto col compagno dall'altro figlio cioè ogni figlio che ha avuto in più è come se nel frattempo si fosse dimenticata che non era stata salvata dalla prima dal primo figlio del secondo ne dal terzo e avesse continuato ebbe con lei ne scopo volta con con lei non va senta che con la innamorata un che non pesa poi mi ha avuto a piersa jet cosme aveva morato a far spettare i statuati che portano sta boxe alla colline di scopo abbiamo bisogno voglio un rato e ora sta cercando qualcuno che la salvi da dal contesto familiare e però di nuovo non so che a cocco scopo per ora tova forte svolgente con il contesto e non lo troverà perché nessuno la salva i miei snitch e poi ne chiamo ora tova lo sa non avviata e no non ancora non è ancora che è consapevole di questo gli asciani a gesta niente cosa si fa toma ok causa esoterica dell'appendicite in trasportando la terza che il copro la moffi ma ecco vero stack allora io vedo che l'appendicita è anche una cistifelia no sono due parti che hanno avuto un affaticamento un appesantimento in seguito degli eventi familiari in casa col compagno vita sono una per volta che è che farà giù c'aveva maio se problemi che mi problemami raggini ecco come se usasse usate inconsapevolmente il suo corpo o i dolori nel corpo per anche lì essere salvata da un problema che c'è in quel momento anche come riuscire in questo caso uso a tutti questi problemi fisiche come ancora qualcosa che io mi racconto i altri problemi in che senso nel senso che male male tanto male si deve fermare e deve staccare cioè in questo senso che voli poi paoli finché si è stata semata con 8 anzi ottaco quindi come se in effetti il suo corpo facesse si permettesse che lei abbia uno stacco da quello che le crea sofferenza al di fuori ma facendole partire col corpo perché c'è una coppia stavosani cerpiamo a stante l'innesso provato facciamo che crova volta stava finanzi un problema tanto non ci portava finanziati al pieno ma tutto questo può continuare ad avvenire fino a che lei non capisce non diventa consapevole che può risolvere un problema a staccarsi del problema senza dover partire fisicamente allora non c'è rosso messe o no mo si sa ma noi stanno 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 a tre problemi per con i nostri cerpini artista che mi sposa mi chiusa ci si felle a varata e lo stesso motivo passamo passamo troverò stac ok spalla sinistra grave park allora quando è detto spalla sinistra mi è arrivata un'immagine e l'immagine del compagno che la tirava per il braccio terri meno estate park poi a fiumi show brass partner attore ciò ne ho sarà mia zarenka come strattonare tirare così da capo ea tomshar pociano un fuori sulle braccia preschina ramiano allora prima ecco una parte che dico adesso e quando mi hai detto della mi hai chiesto degli impianti sul corpo ho visto anche come una specie di pellicola che in alcune zone vedo dal ginocchio in giù come anche dal gomito fino al polso come una pellicola che ricopre la pelle implante spostati da che confermano tratta che si folli curata mo crevasa però ecco questa non è un proprio un impianto è come se fosse una protezione che mentalmente lei si mette sul sul corpo sugli arti per non entrare in contatto con le cose esterne e anche in contatto fisico con i figli alla toniera steampante fiesta cercata che a costrucciamenta nato sfruttata che i cronetrono sapete acqua dalla pagina codice con pacchi e se c'è menzini rovini a scegli faccio sinistro però planta mostrata un web con 3 non notava è un altro segno che il corpo gli ha dato per per dare uno stop per fermarsi con line tacchi snack traccia voi davo nostra società la sua stessa cosa che c'è stata chiamata ecco mi sento di dire questo che il suo corpo funziona molto come dico cartina al tornasole come come prova di quello che la sua parte emotiva sta vivendo cosa non ha capito a concetto quello ripeto lei guardando il suo corpo quando quando vede che il corpo ha un problema su un punto in un punto ma spero la fisica sono anche che le facciano sfai e ciao che ti vedi sovra d'anel tardane cioè sti ciao dico questo perché spesso lei non quando ha un problema emotivo non si accorge non se ne accorge movietta da te cosa poi la scuola una testa crema che sprovo emozionalmente con il suo faso quando se ne accorge e perché proprio già molto avanti nel problema è già arriva alla alla fine a mangiare che io si rientro io toffi state temi problem su bards avanza fanno e partita la cosa direi al limite della sopportazione e sta questa crassietta che cosa c'è mani ha fatto la cota solo per questo che le invito a a dare ascolto molto di più al suo corpo di quello che sta facendo adesso perché così capisce scusa così capisce e prende i problemi subito appena nascono state una rosomia da forti del momento c'è che tutti ieri a te problema c'è stato in aion ok ma bene polonia o irlanda premo restando che sarà lei che deve decidere ovviamente i colline punto e carlina petta c'hanno stati l'irlandi cioè ma c'è proprio la città pols che vi tocca attraverso la città sono una sana ben già muciavano usate fatta faccio ma io non vedo l'irlanda come un posto in cui lei si sente accolta gli anni vita irlandia con la città dopo vedo la colonna la polonia più adatta lei per per diciamo solo per le radici e perché dove poter portare i suoi figli avete spargita che la città mi sposa sclando passiano note i cosigni e sta la città mista ma quello che io vedo lo vedo in base a quella al suo sentimento la sua emozione c'è la risposta in base a dove lei a cosa quello che lei si sente più vicina l'attacco prodotto da casa mista e spavino per stato miste dottore coibili jay est certa però al di là di questi due posti io credo che lei possa scegliere ancora un terzo posto da svilupposa che mi devono a krajami ma non subito non quando i bambini sono ancora piccoli alla mia nina tecnica stegna che ci sono iniziata che amava qual è la causa esoterica non ho capito la causa fisica quale sia ma cos'è qual è la quella esoterica del ritiro di passaporti in irlanda a piacere ci sono stata la città brani a tec passporto stanno ferranti già già allora quando l'avete nominato prima io ho visto che il fatto è legato al compagno che è fatto a muovere spazio ne rigiavamo chiamato stiamo fa che stasera nasi partenari come se il compagno avesse messo in allerta qualcuno un qualche ufficio sa che questa parte la faccia in sala domenica che c'è il pericolo che leva dalle coi figli esatto cosa si fa come la stessa fase tangente a missione a sapere ma lei lo sapeva faccia una volta che già va potessi avversi stacchi con lei l'ha pensato ho noto messo si provo se si sono con la stessa carolina guavante potessi fa lasciata soltanto sta mi mi sa faccia mia carolina sì va bene nonno materno disincarnato e anche direi bisnonna che si è presentata all'inizio portale aurel aperto vai torsera mi ha pensato e porta al dottaco chat 4 con un prossimo da strane ma me ora se ne sconosce poi avevano porto un cosa sia tutta babcia tra babcia tra colore che ha avuto allora sì tanto conferma quella la donna era una sua parente era una sua bisnonna tac poter da banca panni che aveva nota mia caccia di crema e questo tra babcia fatta come vedi bisnon il nonno materno il nonno me lo vedo un più alto assomiglia al papà già da che sta che so che so comina 8 cioè nel pal papà me lo vedo che assomiglia papa per altezza e anche un po per forma fisica nonostra osti in questo modo facciamo mentre la nonnina nonna me la vedo con i vestiti così e che con una torta in mano nata ma sta batta sta coprando e poi ci si faccia stai ma ma che c'è stato ogni e che storia sto ok apriamo portale auro e chiediamo il nonno di lasciare un messaggio allora nonno ok il nonno allora dice questo che dispiaciuto per la vita che ha condotto quando era piccola nel senso dispiaciuto per per come c'è sentita trattata è già da come sacro sta copa voto è anche un tracto fa mi dice che le vuole bene che è legato a lei ma a questo proposito di legato lei chiamerei anche i disincarnati che che spesso le suono a fianco aperto e due state a casa e trasportare la prossima trattata con fili sposato non sono costa né città piana quei due duchi una moglie o un marito devono essere parenti dalla parte dei genitori che smonti sono ma che mi stanno crescere nei miei strani erogito questi li vediamo subito nel portale aureo insieme a tutti i parenti di tutte le generazioni di carolina tonico da tanzioni costa tanto del comportarlo e più a casa e strafacola in caroline che stanno passando passando cosa vuole aggiungere il nonno face a trattata tac vuole aggiungere ma mi dice rispetto mi dice rispetto al papà no è una cosa così di questo tipo mi dice che che il papà non era cioè non era così nel senso che era era molto dimesso quando era piccola mi sta dicendo questo che poi mi dispiace mi dispiace di averlo visto così comportarsi così con lei commesso e povero hanno dimesso ma scusa me che era il file a frase perché se non parlava dice che lì che le dispiace di aver visto il papà che si comportava così con lei ha già e dice che quando era più piccolo e aveva un carattere invece un po come si può dire dimesso anche con un altro modo era un po un po impaurito un po impaurito un po sulle due cose deve un modo e tentano in ministero la sua volta che parte mi ha avuto a che è che cocos nono e che le dispiace che che si sia comportato così con te vota che parte l'incliva tassi va bene lo salutiamo e lo invitiamo ad andare nel portale a un tapposano i parenti quanti sono ai raias che cosa stavano fra tenei ma ne vedo 170 i due attaccati a lei sono andati sì sì sono già passati per premi quasi stato poi che tra volevo dire questa cosa perché c'è la nonnina la bisnonna che era lì con la torta perché lo dico perché perché vedo che ci teneva a dirlo che come se volesse lasciarla lei la torta come come dono perché dice che la vede che non mangia regolarmente regolarne la bisdonna e la madre del nonno ma mangiata capra faccia no mi viene da dire che dalla parte della mamma miei parti esastrana mamma evitato per la sua torta patesta quindi la mamma della mamma di sua mamma mamma e lama la nonna di sua mamma babcia ii mamma mamma e carolina comunque la facciamo anche lei mi ha una tasca poi c'era porta chiudiamo il portale auguro e san prima porta fatto questo passaggio possiamo andare a tranquillamente al cluster stata la smogionata c'è da castra sì ci stiamo e di contratti delle subito di buttarli nel portale definizione l'immagine che vedo è quella di come fosse un negozio una stanza con tante piccole cose di ceramica come fossero soprammobili ten cluster chiave mista carta kiss club da chi mi sta che mi immagina tamis ceramiche testa mostra paolo snana mebla e lei li sta buttando via tutti tutti i ragazzi che da portano ad eterno un cuo e niente cravoia da terno nel camo mi scaccia ne sto facendo vedere come farlo qualcosa che troppi non ha fatto l'ho messo tra privato a un'istrata mondo a terno l'ha fatto con le mani così troppi vato a due anni e faccio la sua sposta se i tuoni non vediamo l'avatar già mandava taro sì allora qua vedo vedo un avatar ma in realtà lo vedo coperto perché le spalle e ma penso che sia un'uomo energia fizzata non è stata una fatta ricetta certa certa che per me ha una sfai il plato corso la logica energia bene via 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 lavata se si va veramente cova tarano ad eterno ma anche qua si è tamro finisciato a terno si lo sta facendo propita nella messi ok con queste nuove condizioni l'entità eteriche mentali l'eventuale abduction gli impianti c'è ancora qualcosa te la sua tecnica parola capoteca tristone attrazione che cosa che sta in plant e stop anche se abduction si è provata un'altra fazione no non ne mani non c'è più niente perfetto la fiamma è sempre spagnola tempo a me che spaventa che profetismo dice che l'aspetta è una mia impressione o la condizione senza la quale non si può verificare questo incontro è che carolina finalmente provveda da sola se stessa c'è varon canta cosa c'è spot kyan istosa carina scontro stessa ma la c'è troppo inizia cinza watch si è corretto e corretto in casa se la strada lunga drogando educato la capsa di una vista dico questa cosa e ti rispondo anche quando era nel cinema e tu hai chiesto delle due fiamme delle due ipotetiche fiamme è stata tampona usata che mi ripetava già tanti a chi porta attaccionata tra pochi potete la pomena e poi ho visto arrivare lui mi portano sa faccia valta tanto agire pomini e poi lui ha sentito di quello che abbiamo detto del fatto di risolvere da sola vittorio non potremmo scorciato fiscato vittorio sono stanno muscerose verso tre testa il problema e del fatto di non trovare non cercare qualcuno che la salvi e torna ogni po finno soccatica con ossa è una tua lui ha detto questo sì a queste condizioni trovare patate il coposto in varon che mi ha detto che loro si incontrano si incontreranno a quelle condizioni taccone se spazio malattro con i città varon che stanno spagnano trattato tecnici ma quindi sì ti confermo che sta dicendo che lui non è una non sarà un ancora o un cavaliere ma le incontrerà nuovamente in cui lei si sarà staccata dalle sue cose cioè poi c'è già metterci la storia di bisogno prendete la superficie l'antembrezza jank rosnavo che mi sconosciuta sono molto più generato falso che c'è stagioni si spazio che donna siamo lo stesso problema ci vorrà qualche tempo in base a quello che che deciderà lei ben già potrebbe nato ogni caso della società cazzo una costa 9 prima prenderà le sue decisioni in mano la sua vita e prima incontrerà questa fiamma inserzione a poter metà se non sceglie che sfoglia c'è sfoglia renza tra franzai spot catan pomini va bene messaggio finale davanti a quelli che sono rimasti nel cinema e con cava che da most a tutta mia stata migliorata non soltava schiena messaggio finale della della ps allora la ps dice intanto che non vedeva l'ora di essere qua di poter tutto ci salto siamo nemmeno qualsiasi a totale nata spot cannes nomi e dice che ora fai quello che devi sapere che c'era da sapere scusami muovete la sveglia sono la giuridica e ora non non ci sono più scuse per non vedere il trattatore maggiore che vengono faccia per quindi che da qui in poi dipenderà solo da te attacco momento fosca bandesa la sua fa non c'è che sa mai che direzione prenderà la tua vita gli a che 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 io non ho capito questo cosa fanno nel cinema chi è il più interessato chi è il meno interessato a abbiamo tantissimi che ne è che sono in partita intero stavano trusche allora i bambini suoi figli insieme a sua sorella sono quelli che hanno più partecipi che ci ora se siostrata su un ciclo c'è stata una bar di santa frusche mi s'entra stavane nei barchi alternata non c'è preso come il compagno è sempre stato in ultima fila a te partner come parto c'è già e i genitori hanno ascoltato hanno ascoltato vicini seduti vicini reggizia verso cari trasso un disco sceppia va bene lei come la vedi ma la chiave cish dopo a frequenza che grazie anche vera io penso perché non l'abbiamo visto non avevamo detto a niente posso dire la differenza comunque vedo che prima l'inizio era sui 90 miliardi la patente caffè grazie a caroline oggi finisce un miliardo vedo che adesso 120 stava dista miliardo vecchia e nuova consapevolezza poi sono scelta morti una potente come una terra allora vecchia consapevolezza era 75 per cento devo scelare il giocatore piante però tanto e la nuova del 600 per cento la terra si sta pro tanto nuova vecchia quantità di ps e nuova allora una vaca menta torsa ma tocca nei terresti adesso invece la vedo 52 per cento a terra torsosa e mai più di cento tra tanto misto vite precedenti vecchie nuove potete passare trasni tra allora le vecchie le vede 2 2150 abbiamo guardate scienze sta piange chant ma adesso ne vedo un centinaio in meno più o meno si tratta la stessa costa manie i capello vecchio nuovo tra tanto sopana con mosca una potente con i carassi allora cervello vedo che c'era un 6,7 per cento devo scegliere che sia tanto tanto ora c'è otto va bene abbiamo visto tutto c'è risposto a tornare un cattavato parlato sì sì nella vedo la vedo più luminosa la vedo sul violetto addirittura violetto brillante vediamo parzata con scelta clono partita che è vicino ai suoi bambini in questo momento dove io sto mangiabrisco sui caseci